Com'è, eh? Ce l'hai con me? Dimmelo se ce l'hai con me. Com'è? Sì, io, sì, sì. Io ci sono. E chi c'è qua? Solo io ci sono, eh? Vedi qualcuno? Eh? Vedi qualcuno? Eh? Vedi qualcuno? Eh? Vedi qualcuno? Vedi qualcuno? Vedi qualcuno? Vedi qualcuno? Vedi qualcuno? 5, 10, 15, 20, 25 e 30, ma tu ti rendi conto sul 30 mila euro? Ma tu capite che cazzo mi stanno facendo queste piazze e merda? Io non li voglio vedere, li faccio una strage, capite che faccio una strage? Non li voglio vedere! Oh, quella è merda! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Perché non è facile per me, è difficilissimo! Sto lavorando tantissimo, prima ero proprio fulminato e adesso ce l'ho quasi fatta! No, ma ce l'ho quasi fatta, no, a fare... chissà che! Però ce l'ho quasi fatta almeno ad avere un rapporto con te, a parlare con te, almeno sentire la tua voce! Io sono quello! Ho chiesto! non ti voglio non per i coglioni! 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 Non ti voglio non per i coglioni!